Il turismo lealmatese si organizza e nasce l'APT, l'associazione di promozione turistica territoriale, lasciando ben sperare per un futuro del settore più forte e vincente. Non solo, ma l'obiettivo dell'associazione è anche quella di fare sinergia anche con altre regioni del centro-sud come del resto sta avvenendo. Noi abbiamo avvicinato il presidente dell'APT Sisto Bucci per saperne di più sull'interessante iniziativa. Sì, abbiamo costituito una nuova associazione, l'APT Matese, che mira a dare un contributo allo sviluppo turistico dell'intero territorio matesino. Poi abbiamo anche l'intenzione di allargare il nostro operato nell'ambito del Medio Volturno e anche nella zona del Taburno. Poi facciamo anche parte di un coordinamento interregionale, siamo tra i soci fondatori di questo coordinamento, che unisce decine di associazioni, tutte legate alla promozione turistica territoriale, che comprende appunto associazioni della Sicilia, della Calabria, della Puglia e della Campania. Diciamo che sicuramente è una nuova strategia per promuovere il turismo, ma ci vuole dire le finalità in modo più dettagliato? Beh, ci sono tanti argomenti che potremmo dire in questo momento, però dovremmo tentare di fare quello che finora non è stato fatto in maniera sufficiente, cioè far capire ai campani stessi che nel Matese e nell'entroterra campano ci sono delle risorse che sono alla pari della famosa costiera o di Napoli città oppure per esempio della reggia di Caserta. Tutti parlano di quelle 5-6 emergenze più evidenti, però dimentichiamo quelle bellezze naturalistiche e quei borghi particolari di cui il nostro entroterra campano è ricco. Ecco, c'è anche la guida turistica del Matese che sta dando un contributo enorme per far riconoscere il Matese. So che anche nel prossimo numero ci saranno delle novità sicuramente, quindi diciamo un documento importante, una guida importante per i turisti che vogliono conoscere questa zona. Sì, ormai sono dieci anni, siamo alla dodicesima edizione, sarà la prossima, dodicesima edizione della guida turistica del Matese a cui si è unita anche la guida turistica del Medio Colturno. Sono delle riviste che contengono informazioni proprio sul turismo e sulle bellezze del nostro territorio che finora non hanno trovato quella valorizzazione che invece meritano. Ecco, vuole approfittare per lanciare un messaggio ai tanti turisti che amano questa zona? Beh, un messaggio ai turisti. Sembra facile riunire in poche parole una cosa che servirebbero, anzi noi lo abbiamo scritto in dodici edizioni della guida, i motivi per i quali il turista dovrebbe venire al Matese. Senz'altro è venite, scoprite i luoghi più remoti, più nascosti, quelli meno conosciuti, quelli meno frequentati. Qui proprio al Matese c'è la vera possibilità di andare alla scoperta del paradiso che ci circonda.